FEDER Consumatori l'associazione che tutela i diritti dei consumatori attiva anche sull'isola di Procida Tommaso Ferrestieri con noi per dirci un po' cosa sta facendo la FEDER Consumatori a Procida e quali sono le problematiche che sta cercando di portare all'attenzione delle istituzioni Siamo al Comune stamattina abbiamo appena aperto un tavolo di trattativa con il Comune per dire il Sindaco sulla questione dell'IVA da rimborsare ai cittadini in seguito alle due sentenze quella della Corte Costituzionale del 2009 e quella attuale della Suprema Corte di Cassazione abbiamo dato tutte le possibilità al Sindaco, abbiamo chiesto un incontro, ce l'ha dato, ce l'ha concesso siamo stati noi a proporre l'iniziativa di intervenire subito sulle bollette sulla TIA non deve essere applicata l'IVA quindi su questa norma di fatto la FEDER Consumatori sta portando avanti una serie di ricorsi e di proposte di fatti già l'argomento era diventato un po' all'attenzione dei cittadini nell'assemblea di sabato convocata dalle forze politiche alla quale noi abbiamo aderito e abbiamo dato un contributo su questo aspetto ci sono state delle varie posizioni all'interno dell'amministrazione tant'è vero che il Sindaco ha accennato che lui non metteva mano a nessun fermo sul correggere le bollette la domanda della FEDER Consumatori era questa perché ha posto un quesito al Ministero ma questa è una cosa che irrisoria perché il Presidente Stornaiolo il quale è dovuto partire per questioni di traghetti di immediatezza ci ha precisato nella riunione stessa che il problema non lo risolve adesso il Governo dando ordine ai Comuni i Comuni hanno la volontà e la facoltà politica di soddisfare la richiesta dei cittadini che hanno richiesto di imposto perché la migliore cosa è la soluzione politica altrimenti l'associazione come ha messo già in cantiere i ricorsi trascorsi i 30 giorni la lettera che abbiamo già attivato che i cittadini hanno sottoscritto e inviato sia al Comune che alla SEPA vecchio gestore poi aspettiamo, abbiamo dato un tempo ragionevole perché il Sindaco vuole essere confortato dal Consiglio Comunale prossimo e sapremo tra qualche giorno dopo il Consiglio Comunale intorno alla prima decada di maggio la decisione del Sindaco se stoppa alla bollettazione in corso e poi si troverà su una responsabilità perché saremmo costritti a dare seguito all'iniziativa giudiziaria perché abbiamo avuto un mandato dai cittadini i quali hanno richiesto la tutela della nostra società per quanto riguarda le cose più concrete che l'associazione già sta facendo da tempo e le cose notorie partecipano continuamente ai tavoli dell'istituzione comune laddove si discute dei trasporti cosa primaria del commercio e ci siamo distinti in diverse occasioni per la questione del mercatino che il Sindaco stranamente ha annullato e quindi questo ci dispiace e siamo sempre sulla parte della regione perché noi siamo dalla parte dei cittadini dei consumatori e non certamente possiamo fare un discorso di ambiguità abbiamo scelto la via di seguire tutti i problemi sociali come l'associazione l'ha detto anche Michele Carabellese all'assemblea di sabato e forse ha anche un po' portato la suscettibilità delle forze politiche alla quale io faccio delle piene raccomandazioni qua non si tratta di fare i primi della classe noi siamo un'organizzazione non partitica abbiamo un valore aggiunto da poter mettere in campo e le associazioni hanno tutta la facoltà di intervenire nel sociale perché c'è una carenza di volontà politica a non affrontare le questioni sociali la prima quando mettono le mani nelle tasche di cittadini la seconda è sui servizi comunali e non quindi mi riferisco anche alla sanità argomenti incandescentissimi che è esplosi nei giorni scorsi e speriamo che come federconsumatori daremo vita insieme a altri comitati sul territorio che si è già distinto in altre occasioni per mettere in campo una proposta di mobilitazione generale e dire a chi per tanto tempo ha sognato ed ha ottenuto un ospedale tra virgolette un presidio sanitario qual è non dobbiamo abbassare la guardia dobbiamo semmai ragionare come arrivare a dire che Procida non può rinunciare a una sanità che si era messa in sesto non possiamo noi non dobbiamo essere colpiti da tagli per la sanità perché abbiamo sofferto tanti anni tante vittime e tante incongruenze e da un mai d'uomo Tommaso Forestidi alla prossima per la sanità